Sono Gabri Costa ragazzi, guardate tutti insieme questo filmato. Questa è l'introduzione del gioco Tartaruga Ninja Shredder Revenge. Stiamo vedendo lo studio di Canale 6, qui in tv stiamo vedendo Vernon Fenwick, poi c'è la testa dell'androide di Krang, ma sta succedendo qualcosa di strano alla Statua della Libertà. Eccoci, questa non ci voleva, c'è Bebop a parlare in tv. Dobbiamo fermare il clan del piede ragazzi, bisogna fermarlo a tutti i costi. E' così che inizia questo gioco, dobbiamo correre a Canale 6 e subito.